Yugi e tutti duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi ragazzi andiamo a farci veramente mali. No, no, si è rotto, porca! E niente, non posso far più il trick del lancio. Da come vi stavo dicendo, oggi andremo ad aprire un box di Yugi tirato fuori da Wish. Vi dico solo che l'ultima volta erano arrivati i pacchetti dei Pokemon. A questo giro il box sembra di Yugi, speriamo che ci siano dentro anche le carte. Detto questo, ovviamente prima di iniziare, vi ricordo che se non vi volete far truffare e volete il prodotto vero, questo canale è sponsorizzato da Fantasia Store, negozio che vende prodotti veri. UDO, Magic, Pokemon, One Piece, l'Orkana, hanno di tutto. Pagano Funko, giochi da tavolo. E se volete un piccolo sconto e ovviamente supportare il canale trovate il mio referral link e il codice sconto qua sotto in descrizione. Stessa cosa ragazzi per Jack Store che vende prodotto OCG, ma vero, non sta porcheria. Quindi se volete roba coreana, roba giapponese o della robina esotica anche fuori dal classico gioco ma tipo slip e roba del genere trovate sempre il mio referral link e il codice sconto qua sotto. Inoltre se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokemon e One Piece trovate il link del mio Instagram sempre qua sotto. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Ragazzi una cosa, questo video è fatto a livello informativo. Non vi sto assolutamente consigliando di comprare sta porcheria perché in primis non sappiamo con che materiale è fatto. In più ovviamente facciamo un danno a Konami. Quindi ragazzi consiglio anche per non avere immondizie a casa comprate solo roba ufficiale. Detto questo andiamo a vedere cos'è arrivato. Allora Erens, guardiamo un attimo il packaging. A parte che mi è arrivato rotto prima che io lo aprissi o che lo sfondassi ma vabbè dettagli. In più ovviamente la grafica è tutta sfocata e non è la fotocamera e dovrebbe essere stato fatto per il ventesimo anniversario. Interessante. Ma vabbè. Di qua ovviamente abbiamo il mago nero. Da qua quella topa della maganiera con ovviamente la sesta. E niente. A parte tutto quello che non mi convince perché Atem è sotto Yugi. Non dovrebbe essere tipo il contrario. Ma vabbè. È tutto strano questo box. Però è bellissimo. Allora andiamo a vedere quanti pack abbiamo perché da come vedo sono differenti. Abbiamo i rossi e i neri. Con praticamente il pendente di Yu-Gi-Oh! Zexal e con la scheda anime edition. Quindi io mi aspetto di tutto da qua dentro. Ma vabbè. Andiamo a vedere. Pronostico. Secondo te cosa c'è? Allora il pacchetto è estremamente lungo in primis. Vabbè quello ovvio. O le carte sono estremamente piccole. No le carte hanno la dimensione credo giusta? Sì circa dovrebbe essere. Beh dentro puoi trovarci carte di Yu-Gi come carte di Batman secondo me. Guarda l'ultima volta sono uscite carte di Pokémon. Quindi andiamo a vedere. Io ho paura eh. Oh! Ok le carte sono upside down però qui c'è la T di Spirit of Message A. Sì. Ok A con la N. Tutte me le dà. A caso. Ok. Utopia. Ti dirò guarda a livello di fattura ci stanno anche. Cioè la stampa fa schifo. La stampa è imbarazzante. Cioè. Nanda cosa hai fatto? Probabilmente ho fatto un favore all'umanità. Non bruciarle ti prego che sennò usci tre parti di penisola italiana. No quello non credo lo farò. Considerando che l'isola ecologica non mi vuole la roba indifferenziata normale questa roba non me la vuole sicuramente. Ah no poco ma sicuro. Te lo sogni. Oh Max G. Max G. Eeeh. Persino i cinesi con le carte tamocche hanno il Max G. Noi no. Sì no mamma mia. Eh sai qual è il problema? Se avessero nel pacchetto la grafica di un pacchetto vero rischeremmo veramente che te li spacciano come pacchetti veri nelle edicole. Come si facevano una volta. Perché le carte a vederle non sono così neanche terribili. E un bambino ci può veramente cascare. o un genitore che ha 60 anni. Ovvio noi che siamo navigati non ci caschiamo. Però effettivamente un adulto che si fa inculare con i pacchetti da 2 euro dai cinesi di pokemon capisci che è un pacchetto di giugno. Non ci caschiamo. Aspetta che devo chiamare il corriere e dirgli che rifiuto quel pacco da wish. No ragazzi quando i pacchetti di qualsiasi gioco di carte costano troppo poco fatevi due conti. O so pesati o so falsi. Nel senso secondo voi perché su wish le roba costa poco? Perché è una patacca. Soprattutto le carte. Ma dai guarda. I 6 e 7 non esistono. S-M-R-W. Ma che signi? Guarda. Samara? Samara? N-O-G-H. Non posso fare un video e aprirli tutti uno e conti. Guarda. Mamma mia. Alladium. Alladium. Mamma mia. Numero 101. Guarda io spero. Allora vediamo se. Ma guarda. Questo è shiny. Questo è palesemente shiny. Bello. Bello. Jet Synchron Shiny. Lo userò su Pokemon Go. Lancia è forte. Si può usare. Credo. E minchia come Strike. E Soil. Effettivamente abbiamo trovato tutte carte e mezzi interessanti. Ragazzi prima che mi prende qualcosa. Guardate qua sotto che mi sa il like non l'avete lasciato. Quindi lacchino. Iscrizione. Almeno così si arriva a 10k per fine anno. Grazie a tutti e continuiamo con il video. Aspetta. Abbiamo aperto solo i rossi. Vediamo nei neri cosa c'è. Questo è razzismo. No no no. Uguaglianza. Allora. Belbuk of the Masta. Oh la rara. Eppure. Magician rod raro che non esiste raro. Possiamo trovare la foil secondo me. Vai vai. Minimo in un pacchetto ci sono 50 foil. Oh la foil. Ti dirò. La foliatura è fatta bene. Però la carta fa sì. Cioè. No nel senso. Il disco però. Numero 60 è anche una carta forte. Ragazzi adesso la buttiamo in cacciara. Non comprate sta roba eh. Ma neanche come proxy. Ma manco come carta igienica che vi viene le morroidi. Vi vengono le morroidi. Ragazzi. Con sta roba vi prende il cancro. Cioè. Ma di che stiamo a parlare? Mamma. Cioè. Ragazzi l'ho pagato 30 euro. Sta roba non vale niente. Non vale niente. Non potete usarla. Con 30 euro ti prendevi un box cinese vero? Sì. Ragazzi. Con 30 euro da Baie ho preso della roba incredibile eh. Quella è di Lon. Quella è di Pote. Ypsilon Ypsilon KZ. Un'altra rara. Oimè. Doppia rara in monopacchetto. Oh. Ma questa è pure danneggiata. Aia. Allora. Andiamo avanti dai su. Guarda. Oh. Fortuna che da noi ste cose non esistono più da almeno 15 anni. Se non di più. Questo è quello che hai pensato. No. In commercio non si trovano più da noi. Solo trovate. Me ne hanno inviato in italiano di Yugi Tarocche. E fidati erano di set abbastanza recenti. Davvero? Sì. Ti giuro. Quando le ho viste ho detto non ci credo che ce le facino anche in italiano. Beh. Il secondo strike. Piano piano puoi montarti un mazzo. Max C. Solheim Strike. Qualche X is the Chains. Mi è arrivata una svampata di non so cosa. Ok. Non non puzzano. Strano. Cambiare idea. In realtà questa è Fulatura American. Sì. Sì. Ovviamente. Sì. 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 Oh. Ma questo non l'hanno scaricato. Guarda. Io penso che se la scaricavo io da Google aveva una qualità più alta. Guarda. Che cosa terribile. Eh. Ma è per dare l'effetto giocata. Sì. 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 Mamma mia. Ah. Cazzo. Quella roba vale 4 euro. No. 4 euro no. 1 euro. Mamma mia. San Bliced come la Madonna. Wow. Anche questa costa 2 euro. Sì. Sì. Peccato che quella è gialla e probabilmente il giallo è per il piscio. Non è più della pietra. Cioè no. Come si chiama? Bianca della. La pietra bianca della leggenda. La pietra gialla del piscio. No. Mamma mia. Ma hanno stuprato Bustino. Trix. Beh. Allora. In quest'arte. No. Si scherta signori di Konami. Che bella. Che bella. Ah no. Aspetta. Esiste anche da noi. A posto. Niente. L'hanno ristampata. L'hanno ristampata. Konami l'ha messa nel culo. Beh. O ricalco il Sandros. Sembra anche vero. Sì. Sì. Finché è sfocato. Sì. Tutto sembra vero. Sì. Poi con un testo probabilmente improponibile. Mechanical Special Summon. No. Ti prego. Fermati su quella. Voglio vedere cosa c'è scritto. No. È vero. Perché ci siamo soffermati solamente sull'art e sulla fogliatura. Mechanical Special Summon Effect. Mio Dio. Non ho voglia di leggere quella roba storpiata in inglese. Vabbè. Per adesso è l'unico che ha una cosa strana del tipo. Immaginavo. Ma. Ecco. Quelle sono le due ragazze che verranno da me stasera. Insieme poi. Sì. A tenervi l'asta. Questa roba. The Gross Ghost of Flat Dream. È giusto. Oh. MLP. Te lo ricordi come set? MLP. Sì. Meloni Letamargici. Ok. Interessante. Non me la ricordavo. Mi sanguinano io. Non me voglio metterle mai negli occhi perché sennò riesco di morire. Quel fonte è peggio del Comic Sans. Machine Union Effect. Ok. No no. Per ora mi sembra tutto normale a parte il sun. Rossa. Sunshine. 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 Questo sembra uscito da un frame di un anime anni 90. Guarda. Lo stile è quello. Sì. È proprio io. Nutriente Z. Buono quello. Sì. È un'altra rara. Un'altra rara. Vai. Non so se ce la potremmo mai fare. Guarda. Oh mio Dio. Bubble Man. C'è. C'è di tutto. Uomo bolla. È un. Sono dei pack fantasia. È come. Ma. È i libromancer. Cioè. Ma. Ma cosa vuoi di più della vita? Ti sbusti la roba di N. Poi ti trovi la roba di Bo. 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 Bosch. Bosch. Sì. Questo è Battle of Chaos. Tali del caos. Sì. Sì. Non è Bosch allora. È Buck. E dopo c'è la promo. La promo dei. 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 Dei mondiali. Sì. Il faro tour. Proprio lei eh. Guarda. Ecco. Ma porca puttana. Eh. C'è un euro di comune. Questa è fortissima. Questa è quella che usciva dal. Com'è che si chiama? Dal pacchetto. No. Dal pacchetto del Mac. No. Ecco. Quella che mi mi ha dato. Era da McDonald's quello? Era da Champion Pack? No. Champion Pack mi sa. Mi sa che è Champion Pack. Champion Pack. Comunque inizia a cercare uno strano odore qua in camera eh. E non sono io. Oh. Oh. Godo. Godo. Un drago bianco occhi blu. Bellissimo. E Ring of Destruction non censurato. Ma. Non abbiamo aspettato la valigetta. Allora. Guarda che tocco di classe. Hanno preso l'art giapponese che ha questa foilatura e poi l'hanno stampata sopra. Così ha l'effetto foil su una carta comune. Bello. Andiamo col prossimo perché qua. Oh. Nova Master. Pure. Minchia. Ma qua c'è anche 2011. No. Vabbè. Ma che cosa significa? Quando hanno fatto sto pacchetto. Penso mai. No. No. Loro. Sai tipo la rarity. La rarity è un mix de tante cose. Questo è la rarity cinese. Drago bianco alternativo. Minchia. La. L'hai voluto. Certo. 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 Copiatore. Nobiluomo. Nobiluomo. Le carte per gotto. Corami. Non ti dico che devi fare le carte false. Però fai dei pacchetti del genere che sono diventati divertenti da aprire con carte buone e messe a caso. Io ne comprerei infiniti. Tu non sai il set del pacchetto. Del box. Ti dicono pacchetti random con tante cose dentro. E tu stai lì i pacchetti col gusto di trovare cose. Esatto. Probabilmente trovi il pesce dai sette colori in 15 per. Però va bene. Quanto ci scommetti che qua dentro c'è Erneos? La prima ristampa. No. Impossibile. Impossibile. È bannato dalla vita. Minchia c'è Ocean. Ti dirò che questo Ocean sembra vero. Le rare sembrano vere. Sì. Se non ci fosse YCYX come codice. Sì. E la carta non fosse in 480. Roba pure lì. Mamma mia. Incredibile. No. No. Ma sta roba è recentissima. L'hanno stampato nel 2023. Sì. Altra. Pirate ice pure. Comunque mi sta rimanendo veramente una polverina in mano. Oh. Dai andiamo. Ash. Dopo. Dopo sto video cappello lascia a me tutte le sue carte. Il canale diventare un cappello di paglia. Sì. Sì. Mi laverò anche le mani. Me le taglio direttamente. La tour guide. La tour secret. Guardala. Bella. MLP poi il mio set preferito. Ah. Photo grid. SKE dovrebbe essere in realtà SD3. No. SKE potrebbe essere Structure Deck Kaiba Evolution. Hai ragione. Perché c'è anche questa. La despella. Pure roba prophecy. Mamma mia. Eh prendo tutti i rossi. Apri i neri. Guarda. Ma ci sono anche quelli speciali. Col puzzle. No. Vabbè. Tocca aprirne. No. Vabbè. Apri quello col puzzle. Come minimo dentro c'è la maga nera nuda. Guarda. Considerando che le ho viste immagini su carte. Posso aspettarmi di tutto. Io ce ne ho una nuda da qualche parte. Sul tuo salvaschermo. No. C'è una carta vera. Sembra Starlight. Con la maga nera nuda. Con la maga nera nuda. Con la maga di fuori. Questo è il più bello delle nostre versioni. Giuro. Sembra American. Cato che il font sia una merda. Cioè. Almeno sono riconoscibili. Perché veramente. In altri giochi inizia a essere complicato. Finché continuano a fare schifo va benissimo. Random Lady of Fate da PMT. Foot Blossom. La seconda. Foil. Ovviamente. Ovviamente con la. Oh. Cazzo. Cazzo. Potevamo ben prendere il font del quello ultimate. Bene. Andiamo col prossimo. Vediamo cosa esce fuori. Al minimo dentro qua c'è la Starlight fake. Oh. No. Cavolo. Mi sei piegate. Vabbè. No. Quello che vorrei fare io alla lì di vera. Piegarla a 90. Puttana sì. Allora. No. Mi si sono rovinate. No. Cazzo ce l'ha. No. Ferrer. Che peccato. Super Poli. Cazzo. Mica. Ma con cosa. Che immagine è quella di Super Poli. È quella dell'anime. È quella dell'anime. Ma è più. Mamma mia che schifo. Che roba vergognosa. Mille coltelli. Importante. Poi. Il. Vabbè. Sage Stone. Dark Magician Circle. Bah. Cioè io mi chiedo ma quanto gli costa metterle al dritto. Ash Blossom. Siamo alla terza. Ok. Una carta che non esiste. Che tutti vorremmo. questo è uno dei pezzi del mostro dell'oricalcos che abbiamo visto prima. Sì. È letteralmente così. Mamma mia. Questo mi ricorda la saga dell'oricalcos che è una delle più belle di Yugi. Sì. Con amico. La gentile. Ma non è canonico. Tipo mechanical. No machine. Mechanical. Che bellissimo. Allora. Penso unica carta che ha senso di questo box. Andiamo avanti. C'è la finisce. Almeno hanno stampato una roba che non esiste. Ma secondo me chi fa queste robe. Non ha neanche idea di cosa stia stampando. Cosa esiste o meno. No no ma è ovvio. Palla. Oh. Bene. La palla di la super. Ma è giallo. Sì. Abbiamo mascavata. Artenes gialla. Hanno sbagliato qualcosa qua. No no no. Nella vita hanno sbagliato. Uh questa che è salita. Buona. Galaxy. Eee. Pure. Sì sì. E di nuovo la pietra. Mamma mia. Andiamo avanti. Vuol dire che è molto interessante. È molto interessante questo box. veramente. Sì 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 sì. Questo video si dovrebbe chiamare come prendere le malattie. Guarda domani mi faccio mettere un dito nel culo per farmi fare il controllo alla prostata e io so sicuro che mi sei ingrossata dopo dopo questo opening. Per forza. Forza. Miracle kit. Miracle blade. Considera che oggi ho già fatto una cosa terribile e me ne pento. Ma penso che questa sia allo stesso livello. Vuoi sapere cosa ho visto? Bella questa. Cazzo di carta è. Che cazzo di carta è per due. Beh questa non esiste. Però l'ho vista nel libro. Cerimoni. Sì è rituale. Rituale è tradotto in cerimoni. Cioè loro hanno preso il testo giapponese e hanno fatto il truci. Ma vabbè. Comunque ho visto Ciccio Gamers pacchettare One Piece e questo è allo stesso livello. Per ignoranza? Sì. Perché Ciccio Gamers sbusta One Piece quando non è uno store? Ce lo spiegate? Porco. Perché gliel'ha mandato. Gliel'hanno mandato eh. Gli sponsor. Gli sponsor sono dei coglioni in questo caso perché state uccidendo un mercato. Vabbè. Questo? Sì no questo esiste. Questo esiste. Questo è stato il mio editto finale. Oh. Questa vale 80 euro come la tua? No la mia vale un po' di più però ho fatto un buon prezzo a Chris però posso mandargli quella volendo. Sì sì. Ti dici guarda Chris per quei soldi ti posso mandare questa. Mamma mia. Che cazzo ci faccio con sta roba? Oh. Distruggi carte. Allora il raro è fatto meglio delle rare normali e originali scusatemi se lo dico ma... Oh ma questa non è ancora mai arrivata. La Galea. La Shizuku con l'alternative art. Ma che figata. Questa adesso si butta su Facebook e si vende. No. Si scherza si scherza si gioca è un'ottima carta. Spellbook of Eternity la carta Mikanko e un'altra roba Blue Eyes. We store in flying. Comunque tu non lo vedi ma ci stanno i pezzetti di cose. Probabilmente quello che si è fatto il ramen anzi noodles quelli lì. C'è un odore strano qui in camera. E non so io ho fatto appena adesso la doccia. Viene dai pacchetti. Ragazzi ragazzi voi non comprate queste cose a voi stessi o ai vostri figli perché tanto ormai ci avete in età ci avete figli perché rilasciano cose. Hanno un odore strano e se si mettono le mani in bocca muoiono. Probabilmente sì. Un altro Max G. Bene. Questa roba io non posso usarla neanche come proxy così per testare perché secondo me porta anche sfiga. E anche come spessore puoi usarlo per le spedizioni. Quella roba la prendi e la butti. Sta venendo mal di testa a me. Non riesco a capire perché. Guarda. Comunque è bella. Che cazzo. Lasciamo sta esiste come carta però. Il terzo Max G. Ma questa esiste? Non penso. Cazzo ne so. Questa sì. Andiamo con gli ultimi. Ma cos'è? Allora. Vediamo. Vediamo gold. Rispetto sicuramente la varietà dei mostri. Sì. No no no. Bella l'idea di... Ho altra carta america. Come foil ultra esiste solo questa. Probabilmente sì. Adesso cerchiamo su google lo spoiler. Completa. Perché so al contrario alcune? Non dovrebbero essere tutte nello stesso verso? Tu stai parlando di una fabbrica cinese che se ne sbatte altamente il cazzo di cosa sta stampando. Probabilmente sta sfruttando pure i bambini. Nel senso. In te probabilmente. In quei pacchetti c'è scritto send help. Se tu leggi le carte prendendo punti e linee con le carte al contrario c'è scritto aiutateci. Dai su. Numero 59. Guarda. Accetto il fatto che le carte sono quelle giapponesi e non so censurate. Guarda. Baratto. Un altro Veiler. Ma che cazzo. Andiamo con gli ultimi due. Illusion of Chaos. Giusto perché poteva mancare. Vediamo. Poi un altro Dugares. Un altro Blue Eyes. L'Archifield. Le sento male solo a vederle. Ragazzi ovviamente uscirà un video su come riconoscere le carte false da quelle vere. Perché. Esatto. C'è bisogno. Se avete delle carte che hanno della foilatura normale. Sono in inglese ma hanno una satinatura strana. Sappiate che sono fake e non sono american e potete mandarle tutte gratis a cappello. Sì. Ci ho già provato. Nessuno me la mandate. Cazzo. Ma esiste sta cosa? È un Valiant. Penso che possa esistere. Boh. Che cazzo ne so. Arci demone. Skill drain. L'art. Oh ma c'è il raro? Sì. Secondo me tutte le carte hanno tutte le foilature. Per forza. E abbiamo finito. E due pacchetti da giù sono pieni. Con questi ci prendiamo per il culo la gente sugli short e su TikTok. Mi sento sporco dentro. Non so. Non so tema. Io mi sento sporco. Ad aver toccato. Io. Io mi sto sentendo male. Mi sto sentendo male. Konami. Per favore. Fa qualche giro in Cina. Denuncia tutti. Fai e chiude le fabbriche. Perché non si può eh. In più guadagneresti molti più soldi. Perché effettivamente parliamoci chiaro. Sta roba te porta via dei soldi eh. Quindi falli chiudere. Per favore. Perché è imbarazzante che ancora nel 2024 ci siano aziende che puntano a falsificare questa tipologia di prodotti eh. Però. Non farlo. Cosa? Non grattarti gli occhi con quello che appena te. No no. Con la manica. Con la manica. Ok ok. Comunque sei una roba. Il suo prodotto è cinese. E ultimamente Konami ha fatto uscire quei bundle per tipo importare tutte le carte in Cina. E permettere anche ai cinesi di poter giocare. Perché prima ovviamente Yu-Gi-Oh non c'era. Forse questi erano l'alternativa al fatto che Yu-Gi-Oh non esistesse. E quindi importare adesso il prodotto anche in quel paese permetterebbe a queste aziende di non fare più soldi. Perché comunque sono falsi. Konami grande idea. Brava. Ho dato un consiglio che hai già effettuato. Top. Detto questo ragazzi un bel like per il supporto. E se vedete questo video e i prossimi vuol dire che non sono morti. Grazie a tutti e ci vediamo forse domani. Sempre se... Tranquilli al massimo trovate me nel canale. Lo so che non è la tipa cosa ma vabbè.